bene abbiamo trovato un gommista Luke ha lasciato le valigie laterali al bar dove eravamo così almeno meno peso sulla ruota posteriore visto che è quella quella che ha forato la fregatura è che ha la gomma con camera d'aria andate sorpassateci a 20 all'ora in una strada col 70 un gommista ai piedi della montagna ah che bello è finito un pezzo di metallo dentro la ruota con la camera d'aria esatto siamo dal gommista a ripararla ciao mamma sono su youtube vabbè dai è andata quanto 35 euro grande grande Luke andiamo faccio strada io che non ti ricordi ciao bene gomma sistemata e hanno controllato anche la ruota davanti tutto a posto meno male adesso speriamo che la tizia del bar non abbia venduto le sue valigie laterali tra due ore moriamo di freddo e dopo questa piccola disavventura si riparte dovevamo già essere al giuliar pass siamo ancora in italia non siamo nemmeno arrivati a chiavenna te te la senti di sorpassare con le valigie va bene dai andiamo bello questo paesaggio la cascata fantastico ciao 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 Sì Sì Non va bene Sì Torniamo giù e ci mettiamo in quella piazzola Aspettiamo un attimo Voglio fare il passo così Non c'ho voglia Ora che se ne va il camion Ora che se ne va il pullman